Articolo di Piero Giunta. Ritorna in campo domani alle 19 l'Arco Beleno Ispica per disputare il recupero della settima giornata del campionato futsal di Serie B Girone H. Dopo la vittoria esterna in terra calabra per 5 a 3 contro la SD Ecosystem La Mezzia di sabato scorso che ha consolidato il terzo posto in classifica, i ragazzi del presidente Angelo Galifi sono impegnati nel parquet del Pala Ionio di Augusta contro il Megara Augusta che 10 giorni fa ha vinto la gara di ritorno al Palatricome di Rosolini per 3 a 0. C'è da dire anche che il Megara Augusta è uscito sconfitto dalla gara interna di sabato contro la Polisportiva Futura. Assisteremo sicuramente ad una gara combattuta dove le due squadre venderanno come si dice cara la pelle. Una vittoria della squadra ispicese significherebbe raggiungere il secondo posto in classifica in compagna della Polisportiva Futura. Una vittoria del Megara Augusta significherebbe 31 punti in classifica e l'avvicinamento al Città di Palermo che occupa la quarta posizione in classifica. Città di Palermo che sabato prossimo sarà di scena al Palatricome contro l'Arcobaleno Ispica per la 22esima giornata del campionato. Dunque come sempre domani sera alle 19 tanti sostenitori della compagine calcistica ispicese potranno collegare i loro telefonini, tablet e computer nella pagina Facebook dell'Arcobaleno Ispica per seguire la partita.